ciao a tutti e bentornati su cjtech oggi come avete letto dal titolo mega confrontone fotografico fra pixel 7 pro e oneplus 11 5g metteremo a confronto le varie fotocamere con delle foto e con dei video sia di giorno che di notte di modo da sottolineare le varie differenze tra i due smartphone come vedete abbiamo messo le foto del pixel a destra e le foto di oneplus a sinistra e già subito fin dall'inizio si vede come pixel ha i colori più naturali oneplus un pochino alla oppo fa il prato tutto giallo e aumentando l'intensità del cielo lo fa diventare blu mentre invece il cielo normale era questo il colore anche dell'erba era questo già qui abbiamo una prima differenza andiamo avanti qui oneplus fa un buon lavoro ma il pixel secondo me è imbattibile anche solo per il dettaglio dei petali il dettaglio del polline e il bianco del fiore che era veramente bianco non così verdino e scuro anche in questo caso come al solito pixel fa meglio di oneplus sia per il colore dell'erba qui giallo e verde forte qui colore naturale sia per il cielo che qui era azzurro normale qui tende al giallo oltre a questa cosa voglio farvi vedere un dettaglio per capire la qualità dei dettagli della foto se qui andiamo a zoomare sulla jeep oltre a non vedersi la targa si fa fatica un po vedere il muso l'interno e tutto il resto ora nella foto del pixel dovrò censurare perché la targa si vede e anche tutto il resto e come vedete nei dettagli è nettamente migliore e di una spanna o anche due tranquillamente passiamo alla prossima foto anche qui il colore si commenta da solo i dettagli pure anche in questa foto come tutte le altre questa è una grandangolare si ripete il discorso dei colori però a livello di definizione si somigliano un pochino anche se qui tra gli alberi e anche un pochino nelle scritte compresa la scritta qua sopra si veda che come comunque sia leggermente migliore il pixel questo invece è l'obiettivo normale 1x come vedete i colori sono sempre più sparati su oneplus ma a livello di dettaglio è sempre migliore il pixel di poco ma sempre migliore qui è una 2x e la situazione continua anche qui vedete che è un po più chiara la fotografia questo è un dettaglio della foto guardandolo così si fa un po fatica a capire però se avviciniamo di molto il traliccio si vede come comunque il dettaglio nel pixel sia sempre migliore e sempre più chiaro vedete anche qui le zone sono più chiare e anche la scritta è più definita oltre avere i colori nettamente migliori stessa situazione di prima colori come qui il giallo della casa che era così come mostra il pixel e non come mostra oneplus il colore del cemento era di questo colore anche qui sparato sul troppo chiaro ma avvicinando le foto sul particolare della scala si vede la differenza sia di colori che di dettagli nettamente a favore del pixel camera frontale molto più stabilizzata e meno problematica sulle luci quella del pixel questa è la foto grandangolare con entrambi device a destra sempre il pixel e a sinistra sempre oneplus con il prato giallo perfino di notte qui invece pixel vedete come riesce a tirar fuori più luce da tutta la foto questa invece è la camera 1x e anche solo guardando la differenza di colore del cielo oltre che del prato le foto sono completamente gialle questa è la fotocamera frontale e come sempre i colori del pixel sono più naturali mentre i colori di oneplus sono sempre gialli in questo caso però zoomando di parecchio si nota come i dettagli della camera frontale in questa foto siano migliori su oneplus e peggiori su pixel questa è una foto grandangolare di notte è stata zoomata per togliere eventuali targhe e volti delle persone ma come notate nei dettagli anche solo guardando il cartello si vede come il pixel abbia sempre un pelo di dettaglio in più questo è uno zoom 5x e come potete notare il dettaglio dell'orologio e dei mattoni viene replicato molto meglio dobbiamo naturalmente tener conto che il pixel ha un obiettivo ottico 5x mentre oneplus no e nonostante i tentativi di interpolazione non hanno nulla a che vedere con la piccola interpolazione che deve fare il pixel avendo già un teleobiettivo 5x anche qui come al solito vedete come i colori vengono gestiti meglio persino di notte e che nella foto di oneplus essendoci lo zampino di Hasselblad è tutto un po rosso i video del pixel di notte sono scandalosi ma anche oneplus non scherza video di notte tirati da oneplus 11 5g e pixel 7 pro il pixel però non ha nessun tipo di modalità notturna per i video a differenza degli altri due questa è la qualità audio questo invece è il sensore frontale con un video in 1080p fatto da oneplus questo invece è il video sempre con il pixel fatto con il video a 1080p sempre senza modalità notturna con la camera frontale da 12 megapixel in video in 4k come avete visto dai vari confronti non c'è un'enorme differenza se non badiamo che il pixel 7 pro ha sempre i colori naturali e il dettaglio migliore in ogni caso oneplus non fa un brutto lavoro diciamo che le foto per i social sono già pronte senza filtri senza ritocchi o senza dover aumentare a dismisura i colori per quel che riguarda i video anche nei video si evidenziano le problematiche che ci sono nelle foto per oneplus il famoso giallo di oppo e in alcuni casi il famoso rosso di Hasselblad invece nei video per quel che riguarda la registrazione audio oneplus ha il volume troppo alto in entrata il gain è veramente estremo e se fate queste registrazioni video in un luogo con molto rumore la registrazione in decibel risulterà sempre vicino allo zero se non anche sopra questo in che cosa si traduce? si traduce in un audio che è ingestibile perché anche se lo abbassate in post produzione sarà comunque distorto per il livello troppo elevato del microfono per quel che riguarda invece il pixel il volume è basso migliore sicuramente di oneplus perché in post produzione ci si può lavorare sopra ma a livello di qualità deve essere migliorato perché ho notato che nei vari video che si fanno l'audio non è sempre lo stesso sia che inserite la funzione di zoom audio o no la situazione cambia senza motivo a volte se fate un video in 4k e uno in 1080 nello stesso posto con gli stessi rumori gli risultano due audio ben differenti spero che anche questo prima o poi lo correggeranno se dovessi comunque decretare al momento un vincitore o una preferenza in ogni caso io sarei su pixel 7 pro oltre ad avere una maggior qualità e restituire i colori naturali ha comunque una miglior versatilità fra le camere per esempio puoi registrare i video in 4k a 60 con tutte le camere posteriori passando dall'una all'altra senza problemi cosa che non può fare oneplus che deve rimanere al 1080 nonostante lo snapdragon vedremo con i prossimi aggiornamenti se miglioreranno e risolveranno alcuni problemi che abbiamo evidenziato in questo video aspettando la release di giugno che dovrebbe migliorare molte cose per questo video è tutto se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace iscriviti al canale spunta la campanella delle notifiche condividi il video e aggiungi qui sotto un commento per farmi sapere che cosa ne pensi e noi ci vediamo prestissimo ciao